Io ritengo che gli elettori in Italia devono ben riflettere sulla irresponsabilità di forze politiche, di sindaco e di singoli che hanno portato purtroppo a una brutta immagine di un paese che invece si stava riaccreditando attraverso Draghi e il suo governo a livello internazionale. Secondo lei le risorse del PNRR sono a rischio? Le risorse del PNRR non sono a rischio perché non sono nelle mani di coloro che in questo momento portano alla crisi sono in un governo che comunque garantisce e garantirà l'ordinaria gestione quindi in questo caso si tratta semplicemente di mantenerle e di garantire le procedure però è a rischio la credibilità del paese.